eccomi qua sono donatella bartolomei e sono qui per presentare un mio corso specifico un corso online proposto da corsi nel cassetto ho appena fatto un altro video di un corso proposto da corsi nel cassetto che non è online è un laboratorio teatrale un corso di teatro in presenza ora invece sto presentando un corso online se mi vedete girare è perché sbircio il volantino per non sbagliare ho scritto io il testo però siccome sono qui senza appunti abbraccio come in tutti i miei video almeno do i dati giusti i tarocchi narranti i tarocchi narranti gli arcani maggiori dialogo con l'inconscio ora prendo la presentazione da corsi nel cassetto e vi leggo i dati pratici sono sette lezioni online attraverso la piattaforma telegram da un'ora e mezza all'uno il giovedì sera dalle 20 e 30 alle 22 poi nel caso il gruppo avesse bisogno di una piccolo assestamento di orario questo è tutt'altro che un problema iniziamo a fare la prima lezione poi capiamo se il gruppo mi dice ti prego facciamolo alle 9 ti prego facciamolo alle 8 e 45 e sono tutti d'accordo cambia niente ecco non rinunciate ad iscriversi perché alle 8 e mezza esatte non c'è la parte ecco comunque l'orario scusate sto tornando sulla pagina l'orario è questo il corso inizierà giovedì 17 ottobre e costa 80 euro a partecipante si paga e ci si iscrive attraverso corsi nel cassetto qui sotto il video oltre ai miei dati metto anche il link il sito di corsi nel cassetto ovviamente che potete contattare hanno un telefono ovviamente hanno una mail potete chiedere appunto tutte le informazioni se avete dei dubbi sulla modalità di iscrizione ma ci si iscrive tramite loro per esattezza la fondazione per leggere quindi corsi nel cassetto attenzione però attenzione che le iscrizioni si chiudono però qualche giorno prima scusate sbircio se riesco a dirvi anche la data esatta quattro giorni prima ecco quattro giorni prima le iscrizioni vengono chiuse ma vengono chiuse solitamente già dalla mattina di questi quattro giorni prima quindi vi prego se siete interessati non aspettate gli ultimi giorni per iscriversi perché questo potrebbe dire che poi non vi potete iscrivere e potrebbe anche dire che se siamo al numero minimo di partecipanti che vengono appunto decretati da corsi nel cassetto se magari manca una persona perché questa si voleva iscrivere due giorni prima il corso o due persone tre persone come qualche qualche persona magari che non arriva al numero non far arrivare al numero il corso viene annullato quindi non aspettate l'ultimo ecco questo lo sottolineo perché è molto importante cosa vuol dire i tarocchi narranti gli arcani maggiori un dialogo con l'inconscio ecco il discorso sui tarocchi è un discorso talmente ampio e altrettanto frainteso molto spesso che c'è molta confusione quindi io cercherò qui di fare un minimo di chiarezza anche se ho fatto già altri video sui miei corsi sui tarocchi che scorrendo qui nel mio canale youtube potete trovare se volete dettagli andatevi pure anche a vedere se avete voglia anche un video di qualche anno fa magari riferito un altro corso magari era in presenza magari era sempre con corsi nel cassetto magari no ma i concetti se volete approfondire ora io qua non mi dilungherò ma mi sono già spiegata bene in altri video allora io non sono una cartomante ecco io sono un artista ovvero io sono attrice cantante insegnante di canto di recitazione e materie affini e creatrice di percorsi esperienziali di lavoro su di sé attraverso il linguaggio artistico e linguaggio creativo e linguaggio simbolico io appunto sempre sull'arte che cura il concetto di arte che cura e svolgo una ricerca un lavoro sul simbolo da tutta la vita e diciamo conosco pratico per mia conoscenza per mio approfondimento personale diciamo i tarocchi da tutta la vita sin da quando ero piccola ecco quindi perché lavoro perché una che fa teatro una che fa delle cose artistiche si occupa di tarocchi perché fanno parte del discorso simbolico e del discorso lavoro su di sé attraverso il simbolismo e la creatività quindi non è un corso vi dico già cosa non è non è un corso per fattucchiere ecco non è un corso sull'ottava bassa dei tarocchi farsi paga imparare a farsi uno vuole imparare perché poi si vuol far pagare per leggere le carte alle persone no questo è un mondo che non mi appartiene un mondo che io non condivido i tarocchi sono simboli dell'inconscio sono archetipi dell'inconscio e quindi vengono sondati e approcciati per un lavoro su di sé questo è molto importante vi volesse capire meglio perché dice sì ma io non ho capito da quello che tu stai dicendo non c'è problema sotto il mio video trovate sia il mio numero di telefono che il mio indirizzo email e potete chiedermi informazione potete chiedermi anche una bella chiacchierata telefonica per dire ma io non lo so se mi interessa questo corso cosa vuol dire non non ero abituato a concepire così tarocchi cosa vuol dire parliamone se interessa ci si scrive se non interessa non ci si scrive non è obbligatorio ma altrettanto è possibile ecco leggo qualcosa dalla mia presentazione che trovi anche trovate nel sito di corsi nel cassetto perché laddove vi potete scrivere ovviamente potete leggere programma e presentazione allora scusatemi ok i tarocchi sono un tramite fra la nostra personalità cosciente e gli abissi dell'inconscio umano sono un sono un ponte tra la nostra consapevolezza e la nostra intuizione sono un mezzo per contattare le parti più evolute della nostra coscienza con queste frasi esordisce la mia presentazione quindi già qui spero di avervi dato uno spunto programma ve lo leggete voi ovviamente leggo solo dei punti così inizieremo confrontandoci sulla visione di ogni partecipante sull'argomento verranno sfatati pregiudizi e miti come quello che vi dicevo prima della patocchiera ecco andremo quindi al cuore della questione i tarocchi sono uno strumento di profonda analisi e conoscenza di sé verranno fatti riferimenti all'immenso lavoro sui tarocchi di alejandro odoroschi ecco da cui io prendo tantissimo spunto non sono una una portavoce di odoroschi perché non ne ha bisogno lui è un immenso maestro e non ha bisogno di portavoce però per capirci da che punto di vista stiamo partendo anche i odoroschi è un artista e guarda caso ha studiato i tarocchi tutta la vita i creatori di mondi quegli artisti che non sono solo che non sono incasellabili in uno schema spesso esplorano tutta una serie di aspetti che poi si agganciano si uniscono si legano si incontrano tra di loro proprio al fine dell'arte che cura al fine di fare un lavoro su di sé al fine di abbandonarsi all'intuizione alla creatività che sono due strumenti molto importanti anche per conoscere se stessi non arte come intrattenimento ma come approfondimento come lavoro su di sé come essere tramite i più alte energie che è una fase che mi chiede sempre dire in sostanza in queste lezioni noi pur essendo dietro uno schermo perché è un corso online creeremo un ambiente sicuramente salottiero e gradevole in cui ci confronteremo in cui guarderemo i tarocchi ne parleremo faremo degli esercizi io farò fare molti esercizi cercheremo di sviluppare e di portare a galla sempre più la nostra capacità intuitiva soprattutto per venire a contatto con le parti più alte di noi di noi stessi ecco giocheremo ci sarà un clima giocoso clima come dire assolutamente gradevole e divertente e anche leggero perché comunque sono solo sette lezioni non è un lavoro si poi un lavoro che chi vuole può andare avanti lo può approfondire io faccio ho fatto anche i corsi molto proposto diciamo corsi più lunghi anche seminari altri tipi di approcci che non sono online o anche online ma è un lavoro anche se questo breve è un lavoro di profondità vi leggo ancora qualcosa della presentazione ecco ah no prima dico una cosa importante ecco questi miei video per chi ne ha visti altri sa che non ho niente di scritto non mi preparo quindi sono chiacchierate abbraccio quindi posso saltare anche un attimo di qua e di là non è un corso schematico quindi non è che alla prima lezione si fa questo alla seconda quell'altro eccetera cioè sono lezioni in cui è il mio lavoro è tutto in divenire se io insegni teatro o faccio il corso sui tarocchi non cambia la sostanza nel senso che dipende da chi sono i partecipanti dall'energia che si crea dipende da quello che emerge ok quindi sicuramente se leggete il programma avete degli spunti molto chiari però poi cosa accadrà è imprevedibile e questo è bello ecco allora verranno dati esercizi da svolgere anche durante la settimana poiché l'approccio personale va approfondito al di là della lezione si faranno letture individuali e di coppia cercando di lasciare libera la propria capacità intuitiva verranno visti diversi tipo tipi di tarocchi e si svolgeranno delle analisi sui diversi stimoli che diversi tipi di carte forniscono sto saltando di qua di là e sto leggendo tutto in sostanza faremo un tuffo nel mondo simbolico gli archetipi che hanno accompagnato l'umanità sin dalla notte dei tempi per sviluppare ed arricchire la propria dote intuitiva ed empatica sono di pezzi tipi della presentazione essendo su telegram potremo registrare le lezioni e non saranno divulgate all'esterno ovviamente resteranno interne al gruppo per uso interno esclusivo dei partecipanti al corso e così che le persone possano scusatemi mi sono un po raffreddata oggi oggi è il primo giorno freddino freschino così che ci si possa rivedere si possano rivedere ognuno di voi potrà rivedere le lezioni se lo desidera perché ogni lezione sarà video registrata cos'altro dire basta nel senso che queste sono presentazioni micro che sto facendo molto brevi chi vuole informazioni ulteriori non esiti a contattarmi di contatti senza problemi sul sito di corsi nel cassetto ci sono tutti i dettagli necessari e mi raccomando chi volesse iscriversi non aspetti l'ultimo momento perché davvero quattro giorni prima sin dalla mattina subitamente almeno dalla mia esperienza di altri corsi che ho proposto vengono chiuse le iscrizioni io vi ringrazio ripeto se volete vedere altre mie presentazioni più lunghe sui corsi sui tarocchi trovate scorrendo nel mio canale youtube altri video passati in cui sottolineo degli aspetti parlo in modo anche molto più approfondito delle ottave prima ho accennato c'è un'ottava alta lavoro su di sé i tarocchi come dono all'umanità eccetera eccetera c'è un'ottava bassa la fattucchiera che specula cioè non esiste il santone che ha un potere e vede più degli altri chiunque di noi si può immergere nei tarocchi e i tarocchi non sono fatti per predire il futuro perché il futuro lo seminiamo noi con i nostri intenti anche col nostro inconscio con la nostra profondità più profonda sia che ne siamo consapevoli sia che non ne siamo consapevoli quindi questo fatto di predire il futuro no questo lo dico subito non è il mio corso non è non punta a creare dei preveggenti ma punta a fare un lavoro che sia utile a se stessi e che è molto più più intenso non è un po meno è molto di più io spero di aver reso l'idea comunque resto a disposizione per qualsiasi domanda o curiosità su questo argomento e auspico che il corso parta con un bel gruppo di lavoro e non vedo l'ora di fare questa esperienza che ho già fatto online e vi assicuro che non è fretta noiosa sto davanti a un computer che no no assolutamente si crea si 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 va oltre il video si si entra in sintonia se c'è poi un un bel gruppo con una bella una bella voglia di fare si crea veramente un fil rouge che ci porta a fare una bella esperienza che ci fa crescere grazie grazie e resto a disposizione